È diventato un caso che sta catalizzando l'attenzione nazionale quello relativo al progetto di realizzazione della più grande discarica delle marche nel terreno collinare di Riceci nel comune di Petriano a due passi da Urbino. Un'attenzione di dimensione parlamentare visto che alla Camera il deputato Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato una interrogazione ai ministri di Economia, Pubblica Amministrazione e Interno per verificare la trasparenza dell'iter procedurale che sta acconsentendo la realizzazione di questo progetto. Una interrogazione firmata anche dal portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli. Il progetto prevede a Riceci la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti largo 40 ettari capace di contenere 5 milioni di tonnellate di scarti di fabbriche che non si possono né bruciare né trasformare ma soltanto interrare. Il tutto a mezzo chilometro da alcune abitazioni, in un'area agricola nonché di culto per il cicloturismo e nelle stesse colline che furono set cinematografico di parte del fortunato spot di promozione turistica delle marche girato con Dustin Hoffman Testimonial nel 2009. La rivolta dei residenti della zona cavalcata da un comitato per il no alla discarica ha già superato le 2.000 firme alle quali si aggiungono altre 400 raccolte in pochi giorni da una petizione online. L'interrogazione parlamentare vuole indagare sulla trasparenza che ha portato ad aprile la provincia ad avviare il progetto autorizzativo nei confronti di Aurora SRL, società deputata alla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti. Società le cui quote sono composte al 60% dalla società sanmarinese ecoservizi e al 40% da marche multiservizi. Fra chi si è opposto alla realizzazione anche lo stesso consiglio comunale di Petriano nonostante il sindaco Fabrizioli sia socio di marche multiservizi. Domani l'interrogazione parlamentare sarà rafforzata da un sopralluogo dello stesso deputato Borrelli che farà tappa a Riceci assieme al portavoce provinciale di Europa Verde Giulio Lonzi e all'ex consigliere regionale Gianluca Carrabs che ha portato il caso Riceci all'attenzione di Montecitorio.